E' stato sottoscritto ieri a Palazzo Chigi l'accordo per la coesione per la Campania tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgio Ameloni ed il Presidente della Campania Vincenzo De Luca. Un accordo, come si legge in una nota di Palazzo Chigi, che consente di assegnare alla Regione Campania risorse nazionali tra fondo di sviluppo e coesione e fondo di rotazione per investimenti che saranno strategici per cittadini ed imprese del territorio. La firma odierna porta a compimento, dopo lunghi mesi di polemiche proprio per la mancata firma tra il Ministro Fitto e Vincenzo De Luca, il percorso di assegnazione delle risorse 2021-2027 per la Campania, pari a 6 miliardi e mezzo di euro. Una prima quota, pari ad oltre 582 milioni di euro, era stata assegnata nel 2021 su progetti di immediato avvio che erano stati presentati dalla Regione successivamente. Poi si è proceduto con altre assegnazioni per il completamento degli interventi della precedente programmazione, soprattutto di competenza dei comuni 388 milioni e poi ancora per il risanamento e la riqualificazione dell'area di Bagnoli per interventi infrastrutturali strategici e di pronta canteriabilità in campo ambientale, trasportistico e culturale ed ancora per rispondere poi all'emergenza bradisismo nell'area Campi Flegrei. Dei 6 miliardi e mezzo programmati per la Campania, il Governo aveva finalizzato 4 miliardi e 3, a cui si aggiungono i 2 miliardi e 2 di oggi, per il finanziamento di 181 interventi negli ambiti della riqualificazione urbana, incluso il potenziamento delle infrastrutture sportive, un fatto che riguarda anche la città di Salerno, ed ancora poi della salute con interventi infrastrutturali sugli ospedali regionali e della competitività delle imprese. Tre grandi progetti che a Salerno saranno realizzati, oltre allo Stadio Arecchia, anche gli interventi al Trincerone Ovest, a Porta Ovest ed ancora all'aeroporto ed interventi legati alla viabilità per lo scalo aeroportuale. Lo vedremo insieme al Presidente De Luca, devo dire che arrivano con gran ritardo questi accordi, si potevano fare un anno fa, bene, recupereremo il tempo perduto e sono certo che il Presidente De Luca saprà guardare i territori come suo costume con grande equilibrio e intelligenza. L'aeroporto sta avendo un successo addirittura superiore alle nostre aspettative che pure erano molto alte e credo che sarà un motore di promozione del turismo e del commercio che potremo valutare nei prossimi mesi e nei prossimi anni.